Un convegno per discutere dello scenario che si è aperto a seguito della recente approvazione della nuova legge sul cinema, che rappresenta un'opportunità per sale della comunità e circoli del cinema. L'incontro, che si terrà a Firenze sabato 17 dicembre alle 10.15 alla Sala Vanni della Basilica di Santa Maria del Carmine, avrà lo scopo di informare quanti sono interessati al settore sulle agevolazioni previste per le sale cinematografiche, sia sul versante della programmazione che sul versante della loro ristrutturazione. La legge prevede infatti un intervento di incentivi per chi ristruttura e investe in nuovi cinema, con un piano straordinario fino a 120 milioni di euro in cinque anni, per riattivare le sale chiuse e aprirne di nuove. L'iniziativa è organizzata da ACEC Toscana e dalla delegazione regionale ANCI. La nuova legge, oltre a riconoscere le sale della comunità, riconosce esplicitamente ed investe anche sui circoli di cultura cinematografica e sulle associazioni che li rappresentano, impegnandoli nella promozione culturale del cinema e nella formazione di nuovo pubblico. Questo incontro si colloca in un momento particolare, in quanto in questo periodo si sta procedendo alla definizione e alla stesura dei decreti attuativi della legge, per i quali è necessario proporre delle indicazioni che siano ritenute importanti per il proprio settore, ed è quindi particolarmente utile alle parrocchie, alle diocesi, alle curie, alle congregazioni religiose e alle persone impegnate in ambito culturale e cinematografico. All'iniziativa sarà presente fra i relatori la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, relatrice della legge. Grazie a tutti.